Dopo l'ex manicomio, anche il Teatro Romano di Teramo comincia a prendere corpo e vita. L'approvazione del progetto definitivo, che prevede il suo complessivo recupero, sarà votata in Consiglio Comunale entro il mese di marzo. L'ultima versione del progetto, elaborato dallo studio Belluomo di Palermo, mette tutti d'accordo a amministrazione, cittadinanza, associazioni culturali e sovrintendenza. L'idea portante è quella di collegare il tessuto urbano adiacente con il sito archeologico attraverso camminamenti pedonali ed una piazza. Un teatro antico in pietra da 600 posti, da utilizzare per eventi ma anche per passeggiate quotidiane. Il suo recupero è stato frutto di battaglie ventennali, a partire da Marco Pannella, che prese particolarmente a cuore il monumento simbolo di Teramo. Finalmente abbiamo un'amministrazione che mantiene le promesse elettorali, che si erano impegnate per la verità, anche l'opposizione, a portare avanti questo progetto, perché c'è il pericolo di perdere un milione e mezzo di finanziamenti del MIBAC, che abbiamo preso tramite il ministro Franceschini e soprattutto grazie a Marco Pannella, che ha avuto sempre un amore immenso per la nostra città. Quello che noi vogliamo è che si vada avanti speditamente. Il sindaco ha recepito questa intenzione, sia nostra che delle sedici associazioni, che hanno firmato il documento. Ecco, il nostro auspicio è che veramente, finalmente, dopo 24 anni di battaglia, che l'associazione ha portato avanti, con sit-in, protesti, buttandoci anche sotto al camion, per non far disperdere il patrimonio della memoria della nostra città, tutti i reperti che adesso sono sistemati dentro al teatro. E questo è l'impegno che noi portiamo avanti, ripeto, con finalmente la nostra città. Si è riscoperta che i cittadini amano terra, ma è questo il segno più bello. Il sindaco Gian Guido D'Alberto ricorda a tutti che questo è proprio l'ultimo treno. Subito dopo l'approvazione in consiglio comunale del progetto di recupero del teatro romano, si procederà agli ultimi e spropri circostanti e all'abbattimento dei palazzi Adamoli e Salvoni. Tornerà così a vivere l'antica cavea.